La regina che ha realizzato il concorso più famoso d'Italia, Carolina Vaz. Buonasera Carolina. Buonasera. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto. La serata, prometti? Sì, sì. Sono arrivato un pochino in dettaglio, chissà tu bisogna fare un pari di cose, però prometti sì. Lascio un auguri a Jacqueline e un auguri anche alla nostra carissima Larissa. Larissa, un bacio, amore, siamo tutti insieme a te. Jacqueline, un beijo, sei una persona meravigliosa, tutti lo sappiamo, sei una persona con un cuore molto buono, tutti lo sappiamo molto di te. Principalmente io, che sono sua amica già abbastanza tempo, felice anniversario, tutto di buono, che le cose cose ottime sempre succedono nella sua vita. Un beijo, amore. È con voi, Carolina Vaz, lei che ha idealizzato il concorso più famoso d'Italia, Miss Trans Universo. Questo anno sarà a? A dicembre. A dicembre. Dime quando? La seconda settimana di dicembre. Perciò aspettiamo a dicembre per vedere il concorso più famoso d'Italia, Miss Trans Universo by Carolina Vaz. Grazie mille, Carolina. Grazie a te, amore. Ciao. Ciao. Ciao.